ciao benvenuto in un nuovo video mi trovo in una location nella mia camera eh ragazzi è difficile fare video perché sorgono sempre problemi tecnici sembra una stupitaggine ma qui non stiamo in uno studio eccoci qua vedi è tornato l'audio non so se la cassa che mi ha abbandonato volevo condividere con te c'è un sole pazzesco una giornata splendida dopo eh abbi pazienza dell'audio ma questa cassa la devo buttare giù ho capito pure non mi dà problemi per quanto riguarda la chitarra le basi metto le basi e va tranquillo volevo condividere con te una cosa ti ricordi che feci la ricostruzione delle unghie con il gel mi mi sconsiglio nella maniera più assoluta di utilizzare il gel a noi chitarristi che suoniamo con le dita la chitarra classica in special modo eh assolutamente il gel fa male non utilizzatelo mai per ricostruire le unghie mi sono rovinato completamente le mie unghie ho ricostruito tre quattro volte le unghie eh quando cresce l'unghia tu eh noi la limiamo e tende a crescere l'unghia sotto poi prima o poi o va tolta l'unghia di gel finta da un professionista o estetista o comunque se ne cade da sola perché eh cresce l'unghia sottostante eh quindi l'unghia eh cresce e va via cioè se ne cade o si consuma perché noi limiamo limiamo per mantenere una un'altezza di un'altezza di unghia non eccessiva che succede che quando va via il gel viene messo sull'unghia viene messa sotto un apparecchio per farla indurì diventa un tutt'uno con la tua unghia e torna risultato la tua unghia soffoca e si indebolisce qui questo gel a me è durato un mese anche due ora ancora c'ho il gel su quasi tutte e c'ho scusa questo dito il medio che l'unghia è rimasta una sfoglia hai presente un foglio di carta l'unghia è così l'unghia è un foglio di carta che non serve a nulla la devo l'ho dovuta ora dovrò fare una cura volevo condividere con te anche la qualità dei prodotti eh che utilizza il tuo estetista eh questo è un problema più che altro per le donne sono le donne che si ricostruiscono le unghie però per noi chitarristi in particolare quelli classici vi do questo consiglio se proprio dovete rifarla io vi consiglio più un kit di unghie finde che vengono ingollate li vendono sul web poi vi metto un link farvi rimuovere l'unghia questa di gel da un professionista nella maniera corretta che fischia e in caso di unghie rovinate dopo la ricostruzione come nel caso mio vi consiglio questi rimedi che comunque sono rimedi che vi consiglio anche se ho abbassato il voluto vi consiglio anche se non avete ricostrito l'unghia allora in assoluto quindi l'olio d'oliva in una bacinella olio d'oliva limone spremiamo il limone mettiamo l'olio un un cucchiaino e mettiamo in ammollo le dita un quarto d'ora tre volte a settimana qui io farei degli imbacchi di olio di mandorle dolce olio di oliva olio extra l'olio anche che prendi al mercatino dal tuo contadino di fiducia succo di limone sono tutti lenitivi e nutrienti a eccezione del limone che serve per sbiancare l'unghia comunque rinforza un po quindi la procedura qui ti serve questa una bacinella di plastica qualsiasi cosa una tazza limone olio di oliva il cucchiaino e continui per mesi poi successivamente ti consiglio di applicare uno smalto protettivo smalto trasparente sulle unghie smalto trasparente ancora meglio se indurente uno smalto per unghie indurente ma non farlo io l'ho fatto adesso ma da farlo da quando l'unghia incomincia a guarire spero che ti sia utile questa cosa che ho voluto condividere con te perché è una problematica che ho che ho riscontrato anche ciò in questo momento è ciò degli amici che l'hanno risolta in questa maniera cioè ora devo chissà per quanti mesi non posso non mi farò la ricostruzione che io da 5-6 mesi andavo avanti con le ricostruzioni perché una volta rotte queste qui ricostruite ricominciavo da capo cioè non potevo suonare per un mese e quindi ricostruivo ricostruivo le ho rovinate completamente ora devo una volta che vanno via queste unghie devo fare appazientare per 3-4 mesi se mi va bene quindi non potrò suonare cioè se suono con la chitarra classica il suono comunque tu sai che senza unghia l'esecuzione il volume non è sufficiente per suonare comunque spero che ti sia stato utile iscriviti al canale lasciami un commento la tua esperienza se suoni la chitarra classica con le unghie come ti va cosa usi se hai mai ricostruito fammelo sapere nei commenti qual è la tua esperienza per quanto riguarda le unghie se hai avuto questi problemi se li hai ricostruite se usi smalti fammi sapere nei tuoi commenti cortesemente quello la tua esperienza e cosa ne pensi è molto utile questa cosa per me per gli altri per altre persone eventualmente che ti invito a iscriverti al canale al mio sito ti ringrazio per essere stato con me ci sentiamo al prossimo video ti saluto saluto da giambiero chiudo senza fare montaggio video ciao